Questa è la dodicesima edizione della giornata del sostenitore, abbiamo creato questo evento proprio per farvi toccare con mano quello che ci aiutate a fare ogni giorno. Lavoriamo perché portiamo avanti la mission della nostra fondatrice Sabina Santilli che appunto ha sempre detto che nulla in qualche modo è impossibile, quindi basta volerlo per poterlo fare. L'obiettivo del centro è anche quello di aumentare il numero delle prestazioni e aumentare il numero anche dei posti letto. Questa prima è dedicata ai bambini. La Liga del Filo d'Oro non solo prende in carico i nostri bambini, ma è un ente che veramente prende in carico tutta la famiglia. Noi per esempio siamo arrivati qui che Agostino aveva otto mesi, quindi ha fatto un intervento precoce. Eravamo appena usciti dall'ospedale, noi eravamo stati quasi tutti gli otto mesi all'ospedale, quindi eravamo anche noi molto spaisati perché non sapevamo che cosa andava nel conto. Quando siamo arrivati qui ci siamo trovati comunque delle persone che ci hanno sostenuto e che ci hanno fatto comunque vedere che Agostino aveva delle potenzialità e che quindi anche lui avrebbe avuto un suo percorso e insomma poteva dare tanto. Infatti Agostino ha fatto tantissimi progressi. L'amore che hanno dato alla nostra famiglia queste persone meravigliose è indescrivibile, non si può spiegare parole. Diventa difficile spiegarlo, però diciamo che quando arrivi in un posto come questo è che a volte non credi manca fra quello che vedi, diciamo è impossibile. Invece ti accorgi che il tuo figliolo è entrato nel meccanismo e a volte loro avevano un quaderno che ce lo mandavano la sera quando Alberto veniva a casa. C'erano le crocette e quando faceva bene. E il meno, non ha capito l'operazione che doveva fare, l'insegnamento che gli stavano facendo. E' stata dura perché io quando vedevo che c'era troppo meno, dicevo non ce la fanno, non ce la facciamo, non ce la facciamo. Davo la patrizia e mi dicevo, patria, non capisci niente, ma si vuole fare qualcosa. Ci sono 20 soluzioni per quella cosa, per imparare quella cosa lì. Ce ne è 20, una non è andata bene, ce ne è altre 19, vattene a casa e tattacca. Il destino va bene, non ha i canali semicircolari, quindi non ha l'equilibrio, invece adesso ha fatto l'equilibrio, cammina, corre, si arrampica ovunque a casa, proprio ovunque, anche troppo. Quindi è una cosa importante, poi lui vede solo con un occhio e non sente. E quindi, come diceva prima Nicoletta, la comunicazione è una cosa fondamentale e loro ci hanno insegnato come comunicare con lui, come insegnare anche a lui la comunicazione. Quindi abbiamo iniziato con delle foto e dalle foto siamo passati alla LIS, però lui continua, anche adesso, a comunicare sia con i segni che con le foto, perché comunque, come diceva Nicoletta, qualsiasi forma di comunicazione è importante. Quindi i progressi ne ha fatti veramente tanti. Agostino è un bambino che prima, sieno a cui ci guardavano gli occhi, difficilmente teneva il contatto oculare con le persone, invece adesso lui è affettosissimo. Conoscere la Liga è stato come un, non lo so, toccare il cielo con le mani, nel senso che si era trovato finalmente quello di cui io avevo bisogno, perché risolto quel problema, gli altri problemi, erano assolutamente irrisori, diciamo così. E niente, poi ecco, ci siamo trasferite qui e la famiglia ha continuato a crescere. Altro riente, per esempio, dietro di voi, semplicemente i cuscini, quindi quella è fare imbottitura del cuscino. Ci siamo sentiti, presi in carico, i genitori, quando arrivano qui, sono stremati perché, specialmente se ci arrivano un po' tanti come noi, che ho otto anni di ospedale, insomma, già è stato difficile tenere la famiglia insieme. E quando arrivi qui e ti senti protetto, ti senti un gigante, perché qui siamo al posto, ora si tratta solo di avere pazienza e poi le cose cominciano a marciare. Infatti, ora sono, non so se sono 36-38 anni che stiamo qui e chi se ne va di qui.